Se hai ricevuto problemi riguardo alla scheda grafica che non funziona, che non lavora bene sul gioco God of War Ragnarok, è possibile risolvere il problema aggiornando i driver della propria scheda video Nvidia, oppure andando su gestione dispositivi e vedere se ci sono dei driver da aggiornare sulla scheda grafica. In questo caso in descrizione te l'ho lasciato così, il link che ti porterà sulla pagina per vedere se puoi provare i vecchi driver oppure i driver più recenti, provarli e vedere se il gioco funziona senza avere problemi di crash, lag o altri problemi riguardo al DirectX. Quindi cerca così la tua scheda grafica, trova e qua puoi scaricare e installare il driver. Poi riguardo al DirectX, se in questo caso ti esce un errore tipo DirectX Error, che il gioco non funziona bene, quindi la scheda grafica non lavora bene sul gioco, aggiorna così il DirectX, basta che scarichi e installi così il software. Poi abbiamo il programma Nvidia App, che ti può servire per gestire così la grafica su tutti i giochi e aggiornare i driver della scheda grafica. Ovviamente o usi Nvidia App oppure GeForce Experience, è la stessa cosa. Io ovviamente uso l'ultima applicazione che ha rilasciato Nvidia, quindi Nvidia App. Scarico così la beta, la installo, sono 700 MB. Vado su Nvidia, driver, scarica e installa gli ultimi driver rilasciati per la scheda grafica. Perché io non ho mai problemi con la scheda grafica sui giochi, perché aggiorno sempre i driver. Se invece è un problema di sistema, provo a vedere su Windows Update. Verifica disponibilità, aggiornamenti e vedi se devi fare qualche aggiornamento. L'ultimo aggiornamento che ho fatto è stato del 15 bisettembre. Tasto destro sopra, qui sul tasto start, gestione dispositivi. Scendi finaggi fino a trovare la tua scheda grafica. Maggiorna driver, cerca driver nel computer. Nell'elenco, metti il primo, vai avanti e installa così il driver. Se no, puoi semplicemente disabilitare il dispositivo e riabilitarlo. Una volta scaricato e installato tutti i driver, devi riavviare il sistema. E non avrai più problemi ad aprire o a crashare sul gioco God of War Ragnarok e avere altri tipi di problemi riguardo al GPU drivers. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.